Xis, popolo del web, oggi qui per noi, Dennis D'Ozio Un saluto a Tommaso Zò Perché ti seguono sui social? C'ho un profilo dove è H24 per Dennis D'Ozio Carlo, io credo Illuminami allora Ok, io non faccio l'amore Io faccio l'amore Io non fotto Se ti tocca al culo significa semplicemente che Fotto, senza pietà Ancora non ci credo A che cosa? Che ti arriverebbe un pugno che finisce direttamente in Norvegia Baby Ti andrebbe un po' di shwebs Ok, pronti? Azione, vai! Bocconino Ma no, dai, questa è tipo la situazione quando Dio mi ha creato Loro un pugno Guarda qui è l'amore Ancora non ci credo